Questa crostata profuma di casa Farina, zucchero a velo, burro E andiamo in frigo Passiamo al ripieno Ricotta, zucchero, pizzico di sale Una puntina di cannella Anche un po' di più Qui ho delle scorze d'arancia candita Io non amo i canditi ma queste sono pazzesche Gocce di cioccolato Ben imburrato La facciamo bene aderire ai bordi Quanto bella Sta di casa ragazzi Oh 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 Ok Grazie a tutti Grazie a tutti